Capitolo 10. Cantando, peggioro le cose e scateno il panico. Devo imparare ad apprezzare i discorsetti di incoraggiamento di Annabeth. Alla fine si riducono sempre a se A uguale a B, allora tutto bene, se A diverso da B, allora siamo morti. Non sapevo perché avessimo rapito Baby Killer o cosa Annabeth avesse intenzione di farci, ma mi auguravo che non si arrivasse al piano pulcino. Sfortunatamente questo significava dover riporre le speranze nel piano persi canta, il che faceva presagire che saremmo finiti uccisi comunque. Mentre Grover ammucchiava mobili davanti alle porte, io e Annabeth corremmo sul palcoscenico e accendemmo l'impianto karaoke. Mai avrei pensato di fare una simile affermazione. Baby Killer si era ambientato in un attimo e razzolava sotto i tavoli alla ricerca di briciole, pizza muffa o dita fresche da beccare. Annabeth guardò turva lo schermo del karaoke. Questo coso ha la funzione ricerca? Potrei tentare una ricerca incrociata con scuse e perdono. Sorry not sorry sarebbe perfetta, suggerì. Persi! Va bene, va bene, mi spremetti le meningi. Come si chiama la canzone in cui quel tizio canta una cosa tipo non intendevo farti del male e farti piangere? Ebbe, però non l'abbiamo fatta piangere. Oh aspetta, intendi quella di John Lennon? Jealous guy? Credo di sì. Hai appena chiamato John Lennon quel tizio? E vabbè, dai, vedi se c'è la canzone. Dietro le porte le galline sbattevano contro i pannelli, scuotevano l'intelaiatura e crivellavano il mogano di fori a forma di becco. Sbuffando e ansimando, Grover continuava a trascinare tavoli per bloccare l'ingresso, ma un satiro preadolescente non poteva fare più di tanto. Stavo per correre in suo aiuto, quando Annabeth esclamò, trovata! Premette un pulsante e le prime battute di Jealous guy partirono. Non sapevo se sentirmi sollevato o meno. Ora dovevo cantare, e io non so cantare. Cominci tu? Oh no, sei tu che hai fatto arrabbiare Ebbe, mi fece notare Annabeth. Io? Tutti e tre! Ma per il 90% sei stato tu! Solo il 90%? Però sto migliorando! Grover incuneò un altro tavolo contro le porte. Tu dacci dentro e basta! Poi noi ti diamo manforte! Il gobbo elettronico iniziò a scorrere e Annabeth mi porse il microfono. Altra affermazione che mai avrei creduto di fare. Ricordavo la canzone da quando ero piccolo. Mia madre la metteva su di continuo, anche se la faceva piangere. Odio vedere mia madre piangere, motivo per cui mi si è impressa nella memoria. Ripensando a quei momenti, non so se la canzone la facesse pensare a Poseidone o fosse piuttosto un suggerimento per il mio primo patrigno, tipo, forse dovresti scusarti per essere così. Se era il secondo caso, Gabe il puzzone non ha mai colto il messaggio. Il brano iniziava lento, come un lamento funebre. Non appena cominciai a borbottare la prima strofa, le galline si avventarono contro le porte con ancora maggior violenza. Senza dubbio si rendevano conto che dovevo essere fermato a tutti i costi prima che una canzone perfetta venisse torturata a morte. E il fatto che fossi tornato ad avere la mia vocetta stridula da bambino di otto anni non aiutava di certo. Altra cosa che non mi mancava della scuola elementare. Annabeth aiutò, parola grossa, gorghiggiando tutte le parole con mezza battuta di ritardo rispetto a me. È così che sai di aver trovato il vero amore, quando la tua metà canta da schifo come te. Arrivato al momento Clou gridai, questo è per te, Ebe! Stranamente quando ho digitato Clou, il correttore automatico, ha cambiato in clown e forse non aveva tutti i torti. Art you cry jealous, oh yeah, biascicai. Il nostro amico baby killer corse a nascondersi sotto il divanetto d'angolo. Da lì mi sbirciò con uno sguardo offeso che diceva chiaramente io ho solo due giorni e saprei cantare molto meglio di te. Alla seconda strofa Annabeth cominciò a esaltarsi. Mi cinse la vita con un braccio e cantò a squarciagola che anche lei era solo una persona gelosa. Il suo entusiasmo peggiorò il brano di un bel 5%. Infine, mentre ci lanciavamo per la seconda volta nel punto Clou, oppure clown se preferite, nel bel mezzo della pista da ballo si materializzò un vortice di lustrini e biglietti premio. Apparve Ebe, con le dita infilate nelle orecchie. «Smettetela! Smettetela subito!» L'impianto karaoke ammutò lì. Baby killer scomparve di nuovo sotto il divanetto. Le porte smesero di tremare nell'istante in cui l'esercito di polli cessò il suo assalto. «Oh grande e giovanissima Ebe!» declamai. «Siamo profondamente dispiaciuti! Soprattutto persi!» aggiunse Annabeth. «Rappresento il 90% dei dispiaciuti!» confermai. «Per favore, perdonaci!» Ebe ci fissò Gelida. «Se quella canzone intendeva porgere delle scuse, dovresti indirizzarla a John Lennon.» «Per favore, concedici rifugio dalle tue galline infuriate!» gridò Grover dalle porte. «E per favore, riportaci alla nostra età giusta!» implorò Annabeth. «Stop, stop, stop!» Ebe mise le mani a tì a chiedere un time-out. «Prima profanate il mio impianto karaoke e poi mi subissate di richieste. Perché dovrei riportarvi alla vostra età giusta?» «Perché...» mi impappinai. «Perché sei generosa e buona e anche super giovane!» «Siamo tre supplicanti al tuo altare!» sottolineò Annabeth. «Il più sacro dei tuoi sacri palcoscenici di karaoke!» sbrodolò Grover. «Il più sacro dei locali da bughi!» Ebe gli scoccò un'occhiata. «Troppo?» chiese lui. «Vogliamo solo andarcene di qui in pace, alla nostra età normale, in modo da poter spargere la voce sulle meraviglie e i terrori dell'ebetudine!» «E con qualche informazioncina sul calice degli dèi, gentilmente», aggiunsi. Annabeth mi tirò un calcio in uno stinco, ma era troppo tardi. Ebe scoprì i denti. «Cirisiamo! Insolenza! Calunnia! Forse non ti ho mandato abbastanza indietro nell'infanzia! Perdonalo!» gridò Annabeth. Notai che il suo sguardo continuava a guizzare verso il divanetto dove si nascondeva Baby Killer. Se stava aspettando che il pulcino lanciasse un attacco a sorpresa alla dea, le nostre chance erano scarsine. «Non sta tanto bene, la sua mente funziona al rallentatore!» aggiunse. Colsi il messaggio. «Anche a otto anni, pur non essendo la cima del gruppo, avevo capito.» Annabeth stava temporeggiando. «Ma perché?» «È vero», confermai. «Ho i pensieri un po' rallentati.» L'acconciatura di Ebe sembrò contrarsi in ricci più compatti, come a formare un casco protettivo contro traumi del tipo «starci a sentire». Era la mia immaginazione o anche lei si stava rimpicciolendo?» «Vaneggi», disse. «Esatto», concordò Annabeth. «Lo fa spesso, ecco perché devi perdonarlo.» «Devo?» «Dovresti, forse potresti, potresti senz'altro se solo tu lo volessi. Ti prego, dea.» Ebe batte i piedi per terra con quei suoi stivaletti che ora le arrivavano ai fianchi come stivaloni da pescatore. «Siete tutti così, così schifosi.» Si stava riducendo davanti ai nostri occhi. Il mini abito era diventato un maxi abito, la cui balza a motivo Kashmir le copriva ormai le caviglie. Le guance si erano fatte paffute da bambina. «Cosa sta succedendo?» scosse i pugni ormai minuscoli. «Non mi piace.» Ormai era più piccola di noi, sui sette anni. Gli occhi conservavano lo sguardo furioso, ma la voce aveva una tonalità acuta, come se avesse appena aspirato una boccata di Elio, che rendeva difficile prenderla sul serio. «Non guardarmi così!» gridò con le labbra tremanti. «Brutto scemo!» Purtroppo non potevo fare a meno di fissarla. Si ridusse all'età dell'asilo, poi all'attante. Anche Baby Killer fece capolino dal suo nascondiglio per guardare. Finalmente capì il piano pulcino. Ebe doveva sempre essere la più giovane ovunque si trovasse. I suoi poteri stavano reagendo alla presenza del pulcino. Come dea avrebbe dovuto essere in grado di fermare il processo, ma credo che si fosse lasciata cogliere di sorpresa. O forse invecchiarsi andava contro la sua natura. Cadde, non più in grado di camminare. Poi strisciò verso di me come se volesse afferrarmi le caviglie, ma finì a dimenarsi distesa su un fianco e cominciò a frignare. La dea della giovinezza era ora la più giovane nella stanza, un irascibile lattante con il faccino paonazzo. Cos'è successo? chiese Grover. Annabeth si avvicinò e sollevò la neonata, avvolgendola nel vestito a fantasie Kashmir. Baby Killer ha costretto Ebe a diventare la più piccola dei presenti nella stanza, solleticò il mento della dea. Però sei adorabile. Ebe si contorse e grognè. Cercò di mordere il dito di Annabeth, ma non aveva denti. Dai, calmati, la coccolò Annabeth. So che sei puntigliosa, però sono sicura che non presenterai un reclamo, vero? E i polli non apprezzerebbero. Baby Ebe si immobilizzò. Fantastico, riprese Annabeth. Allora ecco cosa suggerisco. Siamo d'accordo sul fatto che alcune giovani età sono semplicemente troppo giovani, quindi facciamo uscire Baby Killer da questo locale, così tu puoi invecchiare di nuovo almeno fino alla scuola elementare. Poi accetti le nostre scuse, ci riporti alla nostra età anagrafica, ci dici tutto quello che sai sul calice degli dèi e ognuno va per la sua strada. Gorgoglia una volta per sì, fai la cacca per no. Non avevo mai voluto sentire un sì così tanto in vita mia. Ebe gorgogliò. Poteva essere stato solo un gorgoglio casuale, ma Annabeth sembrò accettarlo come promessa. Si rivolse a Grover. Chiederesti a Baby Killer di tornare al suo pollaio per favore? Grover fece un paio di belati. Baby Killer ci indirizzò un pigolio che probabilmente voleva dire grazie per l'avventura, le briciole e il sangue e zampettò verso le porte dove si contorse fino a infilarsi in uno dei fori che le galline avevano fatto con il becco. A giudicare dal chiocciare che venne dall'esterno, il pulcino era stato accolto come un eroe conquistatore. Poi gli schiamazzi si fecero più deboli, segno che le galline stavano tornando al pollaio. Probabilmente Baby Killer aveva sparso la voce che avevamo concordato un cessate il fuoco. Subito Ebe cominciò a crescere. Annabeth la mise a terra. Guardammo la neonata avanzare velocemente all'età dell'asilo, poi alla quinta elementare e infine ci ritrovammo davanti la liceale più arrabbiata che avessi mai visto. Voi tre, ringhiò. Ci scusiamo grande Ebe, disse Annabeth, e chiediamo rifugio e informazioni, aggiunsi. Annabeth mi diede una domanda.